Se avete bisogno di armi, materiali e trappole c'è IGVOLT in descrizione a prezzi bassissimi e con il codice RECK avrete un ulteriore 3% di sconto Bella a tutti ragazzi, benvenuti a questo nuovissimo video Io sono Reclaus e oggi siamo qui con un video diverso dal solito Una sorta di esperimento, chiamatelo come volete Cosa andremo a fare raga? Di che cosa tratta il video? L'avete visto sia dalla miniatura che dal titolo delle storm chest Infatti abbiamo qui davanti una bellissima storm chest Cos'è? Non ve lo vado a spiegare perché ormai lo sapete già tutti Se non lo sapete ci sono altri video sul canale che vi spiegano cos'è la storm chest In poche parole raga è un metodo per farmare È un'attività di gruppo che solitamente si fa quando siete tutti quanti Se qualcuno è avido la starta da solo E gli permette dopo una piccola difesa Dovete ammazzare qualche abbietto zombie come li volete chiamare Vi dà due regali Se riuscite a completarlo ovviamente I regali sono belli corposi raga Quindi vi dà tanta roba soprattutto se le missioni sono alte Noi in questo video cosa andremo a fare? Andremo a fare tre storm chest raga Tre contate, manco troppe, manco troppo poche Perché tre? Andremo a fare ovviamente di tre livelli diversi Iniziamo con una storm chest al 94 Una al 100 E una al 130 Sì raga esiste anche quella al 130 Perché questa cosa no Non voglio diventare ricco Anzi sono già ricco di materiali eccetera Non ho bisogno di altri materiali Ma lo andremo a fare per la scienza raga Per la scienza Andremo a vedere quale di queste tre storm chest pagherà di più Perché non è detto che quella più alta paghi di più Anche se solidamente è così E sinceramente mi è sempre capitato così Però quella al 130 non l'ho mai fatta Quindi non so se cambierà molto Se ci sarà una grande differenza eccetera Nel dubbio Noi lo proviamo raga Nel dubbio lo proviamo Che dire Sattiamo subito la storm chest Come se niente fosse Ma sì dai Ma ci basta lanciare due torrette raga Fare un balletto E nulla Ogni tanto un colpo di lanciarazzi raga Anche perché mi diceva mio nonno Un colpo di lanciarazzi Non si nega a nessuno Ok E ne abbiamo eliminati raga 50 Cioè pure più di 50 Però bastano 50 Per completare il tutto Ok Dov'è l'altro Ok Storm chest completata raga Guardate voi stessi Due regali Eccolo qui il secondo Mi stavo spaventando raga eh Ogni tanto il gioco fa questi scherzi Ho detto come uno Detto ciò raga Uno E due Guardiamo insieme raga Corducente Scaglia buia Ossidiana Raggio solare Marchi ingegno rotante Attiva cella Resina adesiva Che non ci facciamo nulla Corducente Sciama Proiettili Non so come si chiami Quell'arma Poi un'arma in corducente Raga Solitamente le armi della storm chest Non hanno le perk Sono Sono nate Tra virgolette Per essere riciclate raga Le ricicliamo Altro 3 di corducente E parti meccaniche Quindi dai C'è anche da dire Che le storm chest Sono molto random Ogni tanto capita Che vi droppino due armi Tre armi Che vi droppino Tanto raggio Eccetera Questa volta Non ci è andato tanto bene Però io direi Per la scienza Senza che stiamo lì A farle più volte Più volte al 94 Finché non troviamo la migliore Vediamo sempre Al primo tentativo Questo era il 94 Io direi di spostarci subito In una missione Al 100 Ok raga Eccoci qui Missione al 100 Passiamo con la seconda storm chest Ovviamente dobbiamo ancora trovarla Ma non vi taglierò questo pezzo Anzi Venite insieme a me Regà Cerchiamola insieme Visto che Molti ogni tanto Non riescono ancora a capire bene Come trovare al meglio Le storm chest Eccetera Io vi posso dare Un piccolo consiglio Solitamente regà Le storm chest Sono a bordo mappa Quindi cosa vi toccherà fare Andate verso bordo mappa E vi fate un bel giro completo Un bel giro completo Regà La esploriamo tutta quanta insieme Tanto il tempo ce l'abbiamo Non stiamo di fretta Pian pianino Saludiamo pure i nostri amici zombie Che ora ci inseguiranno Sono proprio tanti Sono raga E nulla Abbiamo scoperto che qui per ora Non c'è nulla Vediamo di qua Un nostro amico smasher Regà Beh che fai Tene privi di colpire uno smasher No che non tene privi Regà Ok Siamo stati un po' troppo cattivi Regà L'abbiamo fatto proprio Cascare via Bella Ok Devastato Ed eccoli la storm chest Quindi dai Facciamo al volo piazza pulita Anche se solitamente Regà Si attivate la storm chest Vi prende anche Questi abietti qua E ve li conta Come 50 da uccidere Però Preferisco farlo lentamente Usiamo al volo La nostra vecchia bezzi Regà Parecchio divertente Come arma Niente Ammazziamolo così Facciamo prima raga A posto Penso di sì E allora vai raga Passiamo con la seconda storm chest Quanto è bella Sinceramente Non è niente male esteticamente Regà Ok Questo dovrebbe essere Il suo lato migliore Vai Lancia razzi in mano Io solitamente Regà le storm chest Ci vado di prepotenza Doppia torretta Un bel lancia razzi in mano E chi si è visto Si è visto E 50 nemici Easy raga Easy Vai usiamo un po' il nocturno Anche se non mi piace tanto Come assalto Ed ecco fatto Qui abbiamo Il primo regalo E qui abbiamo Il secondo raga Prendiamoli subito Ai Uno E due Ok ci ha dato un'arma In scaglia buia Otto di ossidiana Questa volta Quindi Sull'ossidiana Ci è andato Parecchio pesante Un'altra arma Quindi raga Due armi ci ha dato Due in scaglia buia E Sostanzialmente Nulla raga Missione al 100 Avete visto voi stessi Addirittura non ho visto Del raggio solare Anche se di solito Ve lo da così velocemente Che non ve ne accorgete Beh Dai nel dubbio Ci siamo fatti Un po' di scaglia buia E delle parti lucide Quindi Che dire raga E' stato parecchio randomico E' stata meglio Addirittura la storm C'è stato al 94 Ok che questa ci ha dato Due armi Però lì abbiamo trovato Materiale migliore Ovvero Materiale 5 stelle Ci ha dato parecchio Guarducente E tipo Uno o due pezzi Di raggio solare Quindi in confronto a questa E' stata meglio quella di prima Cosa dire Andiamo subito A fare quella al 130 Raga E vi spiego pure Come farla E vediamo insieme Se cambia qualcosa O no Ok raga Eccoci qui Con l'ultima missione Siamo qui In cerca Dell'ultima storm chest Cosa abbiamo fatto Abbiamo startato Di nuovo Una missione al 100 Perché una missione al 100 Mi starete chiedendo Raga Perché quella al 130 Ovviamente Non ne esistono Per far diventare Una missione al 130 Una storm chest al 130 Dobbiamo andare a potenziare Questa missione In che senso potenziare Ve lo spiego subito Raga Ve lo spiego subito Anche perché si fa di rado Cioè raramente Ho visto qualcuno Potenziare la missione Ebbene si raga Semplicemente Con un po' di blub Potete potenziare Il livello della missione Vi darà più oro Una volta completato E soprattutto Oh qua c'è un drift ball Vabbè non mi interessa Raga Viva la vecchia scuola E nulla Raga Solitamente si può fare Questa cosa Si può addirittura Portare al livello 130 La missione Però non ho mai provato Se Con la storm chest Ovviamente La storm chest Raga diventa al 130 I mozi spawnano al 130 Ma non so Se cambia di loot Cioè non ho mai controllato Se paga di più Paga di meno Vabbè di meno no Però non ho mai visto Se paga di più E sono curioso Quindi perché non Non guardarlo insieme Ovviamente serve parecchio Blub Quindi raga dai Andiamo a cercarne un paio Vi taglio Cioè vi lascio direttamente A quando avrò il blub Ok raga Finalmente siamo riusciti Ad arrivare al punto Eccoci qui Cosa dovete fare Dovete fare ovviamente Una missione che abbia L'obiettivo Abbiamo qualcosa da difendere Raga quindi mi raccomando Non fate Le griglie radar Eccetera Perché non possono essere Previamente aumentate Di difficoltà Siamo qui con una categoria 3 Poteva essere categoria 1 2 4 Noi siamo qui con la 3 Raga Non facciamo troppe storie Andiamo a aumentare la difficoltà Cosa succede se aumentiamo la difficoltà Raga ci da pure più oro Quindi se riusciamo a completare la missione Con una difficoltà maggiore Raga ci facciamo pure un bel po' di oro Basta 12 di Blub Per riuscire a potenziare al massimo La missione Quindi vai Ok un po' a lag Giustamente Ok Difficoltà massima Raga 4 giocatori Più più Cosa dobbiamo fare Ora Che siamo riusciti giustamente A potenziare tutto quanto al massimo Prendiamo pure questo overboard Raga Andiamo Dalla storm Certo che l'abbiamo vista Non è tanto Comodo Questo overboard Da Da muove Raga fa schifo Sto overboard A posto Andiamo dai Andiamo sul classico Overboard normale Altro che sto driftboard E quello che è Andiamo al volo Che almeno si guida bene E nulla raga Tra una cosa e l'altra Ho dovuto ristartare la missione Tre volte Prima perché ho sbagliato Praticamente no Non è che ho sbagliato Prima perché non c'era la storm Cioè ogni tanto capita Raramente ma capita Che non trovate la storm Cioè secondo perché ho startato Una griglia Tra una cosa e l'altra Stavo parlando con un mio amico Ho startato la missione sbagliata E nulla Ora finalmente Dovrebbe essere tutto ok Facciamoci questa storm Certo raga Se adesso va qualcosa Se qualcosa adesso va storto Nulla Mi butto direttamente dal balcone Via E dai Startiamo raga Senza perderci in chiacchiere Uno Due Guardate qua I mostri raga sono al 130 Ovviamente c'è pure Morte esplosiva Quindi ce la rischiamo parecchio Lanciamo qualche granata qua Qualche granata là Niente Ci hanno fatto pure una chiusa Quindi peggio di così Non poteva andare Raga Ovviamente Vi consiglio di Non farlo da soli Vai Lancia palle di neve Abbiamo fatto Sì fatto raga Ora tocca semplicemente No perché C'ho questi muri qua Raga Non voglio essere fatto Da No ci ha preso lo stesso Vabbò Vabbò Tanto ci abbiamo Il coso per rianimarci Ovviamente raga Non vi dovete allontanare Dalla zona Sennò ve la dà Come se fosse fallita Però noi Abbiamo la vita Quindi dai Come se non fosse successo nulla Raga Facciamo finta di niente Ok Abbiamo preso un'altra pizza Dai A posto Detto ciò raga Finalmente Questa cosa tanto faticata Vediamo se almeno Ne è valsa la pena Se ci darà roba buona O cosa Vabbè Vediamo dai Ok Munizioni Batterie 4 di raggio solare Quindi non scherziamo raga 4 di raggio solare 4 di ossidiana Vabbè Una Addirittura un'arma in scaglia buia Raga Quindi ci può stare Niente Semplicemente facendo una storm Certo ovviamente Raga le storm Certo si fanno più velocemente Eccetera Ho fatto direttamente un video Dove Intanto recicliamo questa Polvere E scaglia buia Ci sta Ho fatto un video direttamente Raga dove vi spiegavo Come farmare velocemente Facendo le storm Certo ne abbiamo fatte una ventina E raga Mi sono riempito di roba Un 40 di raggio Un 200 di scaglia 200 e passa di ossidiana Nulla Vi lascio in descrizione Quel video lì Raga Mi raccomando Andate a guardarlo Se siete interessati Perché si farma davvero bene Con queste storm Certo diciamo che Tra un errore e l'altro Ci ho messo un botto Però Se siete veloci Basta che startare una missione al 100 Bordo mappa Storm chest al 100 E via Nulla raga Fatemi sapere la vostra Qui sotto nei commenti Noi ci vediamo alla prossima Bella ragazzi Ciao a tutti 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 Ciao a tutti